ciao a tutti eccoci qua oggi con una golf 7.5 r line 2017 1425 cavalli non è una gt come potete pensare però sono stati montati fari aftermarket full led con frecce dinamiche davvero bellissime una lama della maxton design tutta la serie della riga rossa bella frecce dinamiche anche negli specchi con calotta nera dietro possiamo vedere un bellissimo doppio scarico molto molto bello simile effetto gtd altra cosa possiamo vedere lo spoilerino sempre della maxton design davvero molto carino nero lucido in contrasto con questo colore bellissimo blu vediamo all'interno cosa abbiamo fatto intanto potete vedere che all'apertura c'è il bip in apertura l'attivazione dell'antifurto in caso di scasso dei finestrini apertura della porta lo specchio rimasto chiuso noi saliamo in auto e lo specchio andrà ad aprirsi sempre solo all'inserimento della chiave al giro del quadro ecco che lo specchio si apre possiamo vedere che nel quadro abbiamo attivato i dots e il colore oro il cliente ha preferito il colore oro qua all'interno del piccolo display abbiamo attivato la quantità di terrabocco anche l'accensione con le lancette che vanno a fondo scala sportive dopodiché è stato attivato il climatronic sempre con la visione delle ventole abbiamo attivato anche il menu offroad in così che il cliente può guardare la temperatura dell'acqua e dell'olio visto che non ha il performance monitor e anche l'inclinometro dello sterzo così si può guardare anche quello dopodiché è stata abilitata la modalità privacy mettendo il selettore a zero di sera con l'auto accesa le luci all'esterno saranno sempre spente completamente tutte quelle fuori quelle dentro adesso ovviamente non riusciamo a vederlo perché giorno e con auto ovviamente ritorniamo a lavorare manualmente è stato poi attivato anche il gomma automatico così alla sera come tutte le audi allo spegnimento dell'auto e l'apertura della portiera l'auto accenderà le luci per un tempo che poi andremo a definire noi nel menu della radio queste sono alcune delle attivazioni fatte su questa Golf 7.5 una delle prime 7.5 uscite ecco perché ancora il cruscotto analogico mi raccomando continuate a seguirci mettete mi piace e cliccate su iscriviti al canale ciao a tutti grazie come sempre che ci seguite alla prossima prossimo video le prossime auto ciao